Don't worry we happy, la festa di Capodanno torna in piazza del popolo a Pesaro, martedì 31 dicembre a partire dalle ore 21 e 30. Il tema sarà vintage e suoneranno per l'occasione i migliori DJ pesaresi con le hit degli anni 90 che hanno fatto la storia nazionale e internazionale con l'obiettivo di coinvolgere un target trasversale dai giovani alle famiglie. Ricco il programma di ingresso libero e gratuito. Accompagnamento musicale che vedrà come protagonisti prima una party band che allietterà tutti gli avventuri della piazza con una musica anni 90 e poi andremo avanti fino a notte fonda con i DJ. L'iniziativa fa parte del programma Pesaro nel cuore organizzato da Comune e Pesaro Parcheggi Aspes. Sarà un momento di tranquillità, di sicurezza, di divertimento soprattutto che vedrà coinvolti tanti pesaresi e tante famiglie dedicate a loro. Ad attendere il countdown verrà atteso con diverse band a partire dai Cluedo. Quest'anno ad aprire la serata ci sarà Giancarlo Giagnolini con un format di musica anni 80. A seguire ci sarà il gruppo di Cluedo, un gruppo romagnolo, giovane e brillanti. A seguire ci sarà Auermac, a ruota Auervento Venturini, poi infine sono io con il mio prodotto di Comune da anni 90. Non mancherà l'attenzione posta da parte degli organizzatori per garantire la massima sicurezza dell'evento. Per quanto riguarda il discorso sicurezza, come abbiamo anticipato, abbiamo ovviamente in collaborazione con le autorità preso tutte le precauzioni necessarie per garantire la tranquillità dell'evento ai tutti i partecipanti. Siamo convinti che con la partecipazione del gruppo Cluedo, del gruppo We Disco History, con l'evento ovviamente coordinato e organizzato da Aspes e Pesaro Parcheggi con la collaborazione del Comune di Pesaro, sarà sicuramente una grande serata all'insieme del divertimento e quindi vi invitiamo a non mancare.